Oh, interessa, napoletà, sono due giorni, sono due giorni che siete lì a frignare, a piangere, il gol di Pulisicci non è regolare, ma non capite che più fate così e più noi godiamo? A parte quello, ma probabilmente il fatto di vedere il Mina lassù dà fastidio, no? Brucia, quindi siete lì a piangere da due giorni perché il gol è irregolare, quando la palla va sulla spalla, parte superiore della spalla, e in questo video vi faccio vedere un po' di cose, così torniamo un po' indietro nel tempo, quando succedevano le cose a noi ci pigliavano per il culo. Prima però ragazzi, se siete tifosi della squadra capolista, iscrivetevi al canale e lasciate il like, perché è tutto completamente gratuito, non vi costa nulla. Partiamo da un'immagine fondamentale, visto che qualcuno non capisce un cazzo di calcio, probabilmente non capisce un cazzo di calcio. Facciamo lezioni di regolamento. Prima di tutto, come vedete in questa immagine, che adesso compare sullo schermo, parte alta della spalla è regolare, parte bassa giustamente non è regolare. E Christian Pulisic, non vi soffermate, non vi soffermate al fermo immagine dove fa vedere la palla. Guardate il video, l'immagine completa, per intero la palla finisce sulla parte superiore della spalla, quindi è regolare. Non scassate il cazzo col fatto che è la presa di mano, perché la mano non esiste. Ricordiamo a tutti quanti che due anni fa, due anni fa, a San Siro, Milan Udinese viene convalidato il gol dell'Udinese. gol di mano, gol di mano, viene convalidato e il Milan si stava giocando lo scudetto. Ma quando è successo, eravate lì a prenderci per il culo, eravate lì a sfottere. Napoletani, interisti, il Milan stava lottando per lo scudetto, ma eravate lì a prenderci per il culo. E quello andava bene, questo no, che la prende di spalla. Quello invece andava bene, perché era contro il Milan. E poi concludiamo con tutte quelle persone che stanno facendo, fanno i leziosi, fanno quelli che vogliono dare lezioni di calcio, fanno gli sportivi, se vogliamo dirla tutta il gol era da annullare. I primi sono gli interisti, che stamattina, ieri, l'altro ieri, stanno facendo gli sportivi. Facciamo gli sportivi. Il gol di Adriano, torniamo indietro nel tempo. L'unico gol di mano fatto in un derby era proprio il gol del vostro Adriano, l'imperatore Adriano, che segnò proprio un altro po' con la mano. E eravate lì a godere. Eravate lì a godere perché Adriano aveva segnato di mano. Questo è fallo di mano. Questo è gol da annullare. Non quello di Pulisic, che la prende spalla alta. Quindi, non spariamo cagate, solo perché il Milan è lì in alto e vi dà fastidio. Il Mignon, che lo stanno facendo passare per il peggiore assassino mai esistito nella storia. L'espulsione ci sta, perché l'espulsione ci sta, ma non l'ha fatto apposta. Lui è uscito per colpire la palla di testa e, da portiere, come tutti i portieri del mondo, esce col ginocchio alto. Nelle scuole calcio, da quando sei pulcino, da quando sei bambino, ma chiunque ha giocato a calcio lo sa e lo può confermare. Io ho giocato a calcio per tanti anni, non facevo il portiere, ma sentivo il mio allenatore cosa diceva. Ti dicono di uscire col ginocchio alto per proteggerti. Quindi di che cazzo stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ma piantatela di piangere, il campionato è ancora lungo. Se avete paura, statevene a casa. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate il like. Prima di concludere il video vi ricordo che se, se volete la bellissima maglia della nostra bellissima squadra, lasciate stare le altre che fanno cagare, poi di calcio probabilmente non capiscono nulla, mi raccomando andate sul primo commento sotto in basso. C'è il link che vi porterà al sito dove trovate queste bellissime maglie. Adesso me la faccio vedere come questa qua, del nostro bellissimo Mila, la seconda maglia, poi la maglia d'allenamento, poi voi scegliete giustamente la vostra maglia. Poi c'è quella d'allenamento, poi c'è la prima bellissima maglia del Mila. Adesso me le metto così a cazzo per farvele vedere. Ragazzi, poi se usate lo sconto, la parolina magica RS, pagate anche, già costano poco, se usate quella pagate anche molto molto meno. Poi ci sono comunque le magliette da bambino, straniere, serie B, tutto quanto, calzettoni, tutte complete, tutto quello che volete. sotto primo commento in basso. Vi voglio bene a tutti! Un bacione ai gufi, un bacione ai roditori piangina, è sempre Forza Diavolo!